Hanno effettuato un sit-in davanti alla sede del Tribunale di Nuoro per comunicare all'opinione pubblica le difficoltà nelle quali quotidianamente sono costretti ad operare. Sono i dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio nel Tribunale e nella Procura del Capologo Barbaricino, che oggi hanno ottenuto la prima di una serie di giornate di mobilitazione. Lo stato di agitazione è stato programmato nella riunione del 23 novembre dalle rappresentanze sindacali unitari. All'origine della protesta, le precarie condizioni di sicurezza in cui si trova la struttura. In particolare, gli aspetti igienico-sanitari dell'ambiente di lavoro. Un esempio, la mancanza d'acqua nei bagni. Ma l'elenco è lungo e le segnalazioni al Ministero si sono susseguite senza che la situazione abbia trovato soluzione. Tra le problematiche segnalate, archivi infestati dai topi, scale non a norma, mal funzionamento degli impianti elettrici, impianto di riscaldamento senza manutenzione ordinaria e molti ambienti non funzionante, ascensori fuori servizio, arredi faticenti. In questo caso, le RSU ricordano che le sedi dei giudici di pace chiusa nel territorio disponevano di arredi nuovi che potrebbero essere trasferiti nel Tribunale. Il problema è che il trasloco dovrebbe essere a carico del Comune, sede dell'ufficio giudiziario, quindi quello di Nuoro. Ma qui è che nasce il problema. Il Ministero della Giustizia da qualche mese ha centrato la gestione della manutenzione, quindi quella del Tribunale non è più a carico dell'amministrazione del capoluogo. Da qui la mancanza di un interlocutore per chiedere l'intervento dei tecnici in caso di problemi. La mancata risoluzione delle situazioni di emergenza ha spinto la rappresentanza sindacale unitaria a proclamare lo stato di agitazione che si protarrà fino ad un concreto intervento del Ministero.